Nello stato d'animo è sotto i piedi, ovviamente. Sono mesi da marzo che noi subiamo e non riusciamo a tirarci fuori la testa. Mentre l'Italia si è fermata a metà, l'industria della cultura e dell'intrattenimento è priva di prospettive, nonostante il sostanziale contributo al PIL. L'incertezza colpisce soprattutto il mondo della musica, del cinema e del teatro. L'impressione che si raccoglie sui social e nei gruppi creati dalle maestranze dello spettacolo è che il settore sia considerato un comparto di serie B. Sono in difficoltà non solo artisti, cantanti e ballerini, ma anche chi lavora nell'indotto, attrezzisti, montatori di palchi e service. Forse molti non sanno che le strutture come le nostre, che fanno arte, non sono un ristorante, un bar che per carità, con tutto il rispetto, quando si riapre, aprono la sala cinesca e in qualche modo ricominciano a partire piano piano con tutte le difficoltà e tutte le spese. La gente da noi non viene, non si riavvicina. Noi se tutto ci va bene, se va bene per l'Italia, riapriremo dopo, a gennaio, perdendo la prima settimana. Però i mesi li andiamo a pagare uguali, le bollette le pagheremo uguali. Dopo il lockdown abbiamo riaperto a fine maggio, ci ha raccontato Edoardo Frustaci, formatore teatrale dell'Accademia dello Spettacolo. A giugno poi il centro chiude, ha proseguito e quindi per soli 30 giorni le persone non sono venute. È come se per sei mesi non avessimo lavorato, ma le spese sono sempre rimaste le stesse. Abbiamo veramente fatto di tutto per essere a norma. Sentri, come avete visto anche voi, sanificati i piedi, le mani, presa la temperatura, tutto ciò che il Covid è giusto, perché è una cosa che fa paura questa roba qui. Adesso noi abbiamo riaperto, io ho dovuto personalmente come Presidente dell'Associazione assumermi un debito personale su di me, con la banca, per pagare i mesi arretrati. Ora, i mesi arretrati, ho chiesto il rimborso, ma io ho ancora giugno, luglio, agosto da mettere a posto. Dopodiché, settembre apriamo, dopo tutti gli sforzi, avremo spesso intorno agli 8-9 mila euro, non dico fesserie, perché tanto penso di aver spesso poco rispetto ad altri. Ci ritroviamo a ottobre, di nuovo chiusi. Considera che io faccio l'attore, non ho fatto uno spettacolo tutta la stagione, non ho incassato neanche io a livello personale, perché un conto è l'Associazione, un conto io personalmente. Quindi, ho campato fino adesso con quello che avevo guadagnato prima, non ho più fatto spettacoli, l'Associazione non funziona. In più mi sono indebitato io, adesso ripartiamo e ci bloccano di nuovo. Anche i lavoratori dello spettacolo delle Marche questa mattina sono scesi in piazza. Ad Ancona hanno manifestato per chiedere al governo e alla regione un intervento urgente sul settore. Il sit-in si è svolto in contemporanea con altre città italiane per unire, nello stesso momento, tutto il paese. Mandate l'aiuto a chi deve prenderli soldi, cioè il mio padrone di casa per esempio, che lui abbia un rimborso al mio mancato pagamento dell'affitto. Cioè questo è il problema, l'attenzione non deve essere porta verso di noi al rimborso delle nostre spese. Evitaci le spese perché non ce l'abbiamo più i soldi per anticipare, per poi avere il rimborso. Io non ce l'ho più, non so dove prenderli, ho già fatto un presto in banca, un altro non me lo danno.